Monica, c'è un momento nel documentario in cui lei afferma che quando un attore sceglie un ruolo deve capire cosa scoprire di se stesso. Allora le domando, lei cosa ha capito di dover scoprire di se stessa lavorando a questo progetto? Giustamente a volte ti vengono proposti dei ruoli e tu non sai perché. Quindi quando ti viene proposto di rappresentare il ruolo di Anita Eckberg e sei fisicamente l'opposto, ti dici ma perché hanno pensato a me? E quindi lì vai a scavare, vai a scavare qual è il punto di contatto con questo personaggio e infatti il film poi parla di questo. Come fa un'attrice a rappresentarne un'altra? Qual è il processo creativo di un'attrice per rappresentare sullo schermo un'altra attrice che è così lontana? E lì devi andare a scavare dentro di te per capire qual è la comunione. Ed è poi in effetti questo film è un po' come una masterclass perché si vede questa attrice che lavora col suo regista, che lavora con la sua coach, che lavora per cambiare la sua immagine, trucco capelli, i costumi. Però c'è poi un momento nel film che è piccolissimo e che in effetti è quella, la vera chiave attraverso la quale l'attrice, in questo caso io, avrà accesso al personaggio. È che è una cosa piccolissima perché in effetti i capelli, il trucco, i vestiti funzionano a rendere veramente vivo il personaggio, ma solo quando il lavoro è scaturito da dentro. Nel documentario viene affermato che Anita Eckberg rappresentava se stessa, incarnava se stessa, l'idea di se stessa sullo schermo. Lei ha lavorato con alcuni dei più grandi registi internazionali, ma ha dato anche tanto spazio a molti registi emergenti. Lei crede che il loro sguardo fresco, nuovo, sperimentale, l'abbia anche aiutata a scrollarsi di dosso quell'immagine di donna oggetto nel quale lei rischiava di rimanere intrappolata e quindi fare un passo in più rispetto a quello che invece non è stato permesso alla Eckberg? Ma credo che non è stato permesso anche perché eravamo in un periodo storico diverso. Parliamoci chiaro, cioè a quell'epoca lì un'attrice, anche se era bellissima, talentuosissima, a 40 anni era finita. Cioè non c'era più la possibilità di evolvere al cinema, erano casi rarissimi o forse inesistenti. Invece oggi è possibile, quindi oggi abbiamo accesso a delle carriere molto lunghe, e quindi siamo viste con occhi diversi perché è proprio lo sguardo sulla donna che è cambiato e di conseguenza anche sull'attrice. Antonio Giugno, lei appunto lavora in questo documentario su due binari paralleli e racconta di una donna che ha cercato di scrollarsi di dosso un'immagine che le era rimasta attaccata e che non è riuscita appunto a farla evolvere. Crede che appunto se questa donna fosse vissuta oggi il suo destino sarebbe stato differente? Credo che sarebbe stato un destino differente proprio per i miglioramenti che abbiamo vissuto in questo campo, proprio per la coscienza che oggi hanno le donne e che è l'industria del cinema. Quindi ovviamente avrebbe avuto un destino diverso. Certo bisogna anche saper gestire la propria immagine, la propria carriera, ma sono convinto che se Anita fosse vissuta nei nostri giorni avrebbe avuto molte, molte più chance. Nel documentario la musica è firmata da Max Casacci e c'è un brano che chiude il film documentario che si chiama proprio Anita ed è eseguito sulla voce di Monica Bellucci. È rigorosa di sapere perché Max Casacci, cosa gli ha chiesto e cosa secondo lei ha portato questa musica al documentario? Allora, parto dalla fine. Secondo me la musica ha portato moltissimo al documentario. Io sono un fan di Subsonica e Max Casacci l'ho conosciuto perché ho conosciuto il suo lavoro per una trasmissione per cui lavoro, che è Chidi Mangiaro. E quindi mi è venuto spontaneo quasi, quando ho pensato a qualcuno che potesse comporre la nostra colonna sonora, a Max Casacci. Il suo ha portato più di quello che credevo. Lui di solito campiona i suoni per fare diventare musica dalle api alle radici degli alberi e questa volta ho detto, ok, posso campionare Monica? Ho detto, fantastico, sarebbe fantastico. Eravamo timidi a chiederlo a Monica, quindi abbiamo detto, ma allora io accenno, poi tu scrivi una mail, Max ha scritto una mail e Monica con questa grazia e entusiasmo ho subito accettato e quindi è una cosa che mi piace molto, la musica di Max Casacci e il brano Anita. Grazie mille per il vostro tempo, grazie. Grazie mille per il vostro tempo, grazie mille per il vostro tempo, grazie mille per il vostro tempo. Grazie mille per il vostro tempo, grazie mille per il vostro tempo.